Mettimi Nana. Aspetta un attimo, sto facendo un altro lavoro. Ok, devo scaricare una cosa e poi arrivo. Allora, Nana, io mi tolgo, quando sei piccola puoi cominciare. Ok, va bene. Non sono piccola. Nana? No, come fai di solito? Lo contrario. Ok, perfetto. Va bene. Allora, dopo tagli, no Massimo, se c'è qualcosa che non va. Ok, va bene. Buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Libri in Pillole in Appennino. Questa sera con noi è Michele Attanasio. Ciao Michele e ciao anche a tutti gli ascoltatori di Radio Radar Coretta Terme. Ciao Katia. E dove si porti oggi? Oggi vi porto a Pianaccio, che è un paese del nostro appennino, è una chicca, una gemma incastonata all'interno dei boschi. È un luogo speciale. La zona dove ci troviamo? Siamo vicino Lizzano, a qualche chilometro da Lizzano, tra le falde delle montagne che portano poi a Corno alle scale. E quindi questo è un paese, un piccolo borgo meraviglioso, famoso ai più perché è il paese natale di Enzo Biaggi, ma che nel corso degli anni ha acquisito sempre più persone che lo vanno a visitare perché è il punto di partenza per tantissime escursioni. E in più è un posto che ha una particolare. In questo piccolo borgo trovi delle stradine con delle case meravigliose e quando ho iniziato a scrivere L'altra faccia del male, che è il romanzo nel quale Pianaccio ha una parte importante, ho pensato proprio a Pianaccio come un luogo dove mettere in scena una parte del mio romanzo. Quindi questo è un po' il percorso. Ok, vuoi raccontarci qualcosa? Certo, molto volentieri. Pianaccio fondamentalmente è il luogo dove i vangatti, uno dei protagonisti della faccia del male, ha una casa dove si rifugia una sorta di guerritiro, dove va a pensare, a ripensare a quello che ha fatto durante la sua vita, a combattere con i propri rimorsi per cercare di trovare una pace interiore che per tutta la vita non è riuscito a recuperare. In quei momenti, in quei giorni in cui va su a Pianaccio fa e compie dei gesti che lo porteranno a terminare la sua vita nella sua casa di Pianaccio, dopo aver fatto alcuni gesti, alcuni movimenti attraverso i luoghi di Pianaccio per ritrovare se stesso. Pianaccio è un posto che ha un'atmosfera veramente molto particolare. In estate è una, come dicevo prima, è una gemma incastonata in mezzo ai boschi verdi dal quale partono decine di sentieri per poter esplorare le montagne dell'Appennino e moltissimi anche stranieri vengono a visitarlo perché sono invogliati da un solo il nome di Enzo Viaggi che comunque ha dato lustro a questo paesino, ma anche perché la bellezza di questi luoghi è assolutamente incredibile e mi sembrava un bel posto dove poter mettere in scena una parte dell'altra faccia del male. Mi sembra un'ottima idea e sta capolino spesso Pianaccio nel tuo libro. Sì, fondamentalmente ho pensato a Pianaccio immaginando, partendo dal titolo, l'altra faccia del male. In realtà l'altra faccia del male è il bene e quindi Pianaccio mi sembrava un luogo di trasformazione. L'ho immaginato così, un luogo magico dove è possibile trasformare il male in bene. E' in questo pianaccio credo che sia unico, soprattutto perché nei luoghi dove si svolge alcune scene del libro sono riconducibili a momenti di vita che per un uomo che sta per mettere fine alla sua vita sono fondamentali. E poi c'è il bene che però, essendo l'altra faccia del male, un thriller non si può spoilerare più di tanto perché con i thriller è un po' un problema fare le presentazioni. Questo è vero, però come dici tu Pianaccio è un luogo, io lo conosco, è una zona che conosco bene, è un luogo che secondo me dà molta serenità e in momenti come questi, come questi che stiamo vivendo, penso che già chi abita lì è fortunato perché ha la possibilità di poter godere di sicuramente più tranquillità di noi e poi insomma vogliamo invitare un po' tutti quando sarà possibile. Assolutamente, io mi auguro che l'altra faccia del male possa essere un ulteriore veicolo di curiosità per andare a visitare Pianaccio perché credo che lo meriti, è un borgo meraviglioso, ha pochissimi chilometri da Bologna, che veramente dona una serenità incredibile una volta visitato. girare per le poche stradine di Pianaccio dà veramente un'emozione incredibile e spero che quest'estate magari con una condizione migliore di tutti quanti sia possibile, perché no, fare una presentazione proprio a Pianaccio in giro per i luoghi del mio romanzo, sarebbe veramente molto molto bello. Beh, incrociamo le dita, speriamo di sì, eh. Assolutamente, sì sì, lo speriamo di tutti perché ne abbiamo tutti bisogno. Bene, Michele, io ti ringrazio per aver partecipato a libri in pillole in appennino, do appuntamento ai nostri ascoltatori al prossimo lunedì con un altro autore e in bocca al lupo per tutto. Grazie Katia, grazie a te, grazie a Radio Radar e poi visitate Pianaccio e leggete L'altra faccia del male.